ciao a tutti e benvenuti all'interno di questo video andremo a concludere il codice genetico e andremo a vedere nel dettaglio tutto il processo della traduzione e sintesi delle proteine sappiamo che la costruzione delle proteine non avviene nel nucleo della cellula ma avviene nel citoplasma ma in che modo quindi l'informazione passa dal nucleo al citoplasma e come può la cellula individuare la sequenza di nucleotidi alla quale far corrispondere gli amminoacidi di una proteina per rispondere alla prima domanda francis crick uno dei primi scopritori della struttura del dna propose l'ipotesi del messaggero egli suppose che dal dna si formasse una copia complementare di rna il cosiddetto rna messaggero o mrna questo poi si sposterebbe dal nucleo al citoplasma dove avviene la sintesi delle proteine il processo con cui si forma questo mrna si chiama trascrizione e di questo abbiamo già fatto un video al riguardo l'ipotesi di crick fu subito messa alla prova e venne ampiamente confermata ogni sequenza di un gene si esprime come una sequenza di rna poi per spiegare in che modo una sequenza di nucleotidi si possa trasformare nella sequenza di amminoacidi lo stesso crick suggerì l'ipotesi dell'adattatore una molecola provvista di due regioni una capace di legarsi ad un determinato aminoacido e l'altra capace di riconoscere una sequenza specifica di nucleotidi ben presto queste molecole adattatrici furono trovate si tratta di un rna noto come rna transfer o trna attraverso il trna si è dunque in grado di tradurre il dna in delle proteine per questo il processo è chiamato traduzione la sintesi proteica si realizza attraverso due principali meccanismi la trascrizione e la traduzione si inizia quindi da un rna messaggero che è prodotto a partire dal dna nel processo della trascrizione che come ho già detto abbiamo già trattato in un video quindi ti consiglio di recuperarlo nel caso tu non l'abbia visto e di tornare qui per concludere il processo per mettere in relazione la sequenza di nucleotidi sull'rna e quella di aminoacidi delle proteine occorre una tabella di corrispondenza che va sotto il nome di codice genetico ovvero la relazione tra triplette di nucleotidi dell'rna e gli aminoacidi delle proteine la decifrazione del codice risale agli anni 60 i primi passi furono compiuti dai biochimici nierenberg e mattei i due prepararono rna artificiali costituiti da un unico nucleotide l'uracile poi lo misero in una provetta insieme a tutto il necessario per compiere la traduzione e andarono ad analizzare la proteina risultante trovarono che questa era composta da un unico aminoacido la fenilalanina di conseguenza conclusero che la tripletta di tre u corrispondeva a quella meno acido successivamente ripetettero la stessa cosa con l'adenina e la citosina non con la guanina perché per ragioni chimiche non è possibile fare un rna con soltanto questo nucleotide e in questo modo scoprirono che la tripletta di a corrispondeva alla lisina e quella di c alla prolina il passo successivo fu quello di costruire altri rna artificiali via via più complicati e riuscirono in questo modo a decifrare l'intero codice il quale presenta tre importanti caratteristiche è universale ed è quindi lo stesso per tutti gli organismi viventi dal batterio all'uomo e ciò costituisce un'importante prova a sostegno della comune origine dei tutti i viventi un'altra caratteristica del codice è che è ridondante ovvero più triplette possono corrispondere ad uno stesso amminoacido le triplette sono infatti 64 e gli amminoacidi da codificare soltanto 20 di conseguenza alcune triplette codificano lo stesso amminoacido ma non è vero il contrario cioè una tripletta non codifica mai per più di un amminoacido e quindi il codice non è ambiguo come ultima caratteristica sappiamo che il codice genetico è definibile incompleto ovvero delle 64 diverse triplette possibili soltanto 61 specificano un amminoacido mentre le altre tre costituiscono dei segnali di controllo e sono dette triplette non senso è importante non confondere il codice genetico con le informazioni genetiche quest'ultime sono costituite dalla successione dei nucleotidi nel dna e variano da individuo a individuo il codice invece è la corrispondenza tra triplette dell'rna e amminoacidi ed è sostanzialmente uguale per tutti gli organismi una volta prodotto l'rna messaggero che deriva dalla trascrizione esce dal nucleo e si dirige verso i ribosomi presso i quali avviene la traduzione così chiamata perché le informazioni passano da un codice costituito dai nucleotidi ad uno costituito dagli amminoacidi abbiamo detto che per eseguire questo compito sono necessari degli adattatori gli rna di trasporto o tRNA si tratta di molecole relativamente piccole che presentano due zone funzionali diametralmente opposte l'una all'altra ovvero l'anticodone e il paracodone la prima è destinata a stabilire un legame con i codoni dell'rna messaggero l'altra invece lega un amminoacido in questo modo il tRNA fa da tramite tra l'mrna e gli amminoacidi esistono però diversi tRNA che si distinguono l'uno dall'altro per l'anticodone poiché questa zona comprende tre nucleotidi e con tre nucleotidi come abbiamo visto nel video precedente si possono fare 64 triplette diverse ne consegue che possono esistere 64 tRNA diversi in realtà sappiamo che questo numero non è esatto infatti i diversi tipi di tRNA dovrebbero essere 61 poiché tre triplette non corrispondono ad alcun amminoacido ma a dei codoni di stop in più esiste un fenomeno che è detto oscillazione ma di cui tratteremo in un prossimo video per il momento soffermiamoci sul fatto che il tRNA fa corrispondere le triplette agli amminoacidi per legare un amminoacido al suo specifico tRNA esistono degli appositi enzimi detti amminoaciltRNA sintetasi che hanno il compito di identificare sia i singoli amminoacidi che i singoli tRNA l'amminoaciltRNA sintetasi è infatti un enzima con due siti attivi uno per il tRNA che riconosce attraverso il paracodone e l'altro per l'amminoacido che riconosce tramite il gruppo residuo. Un ruolo determinante nella traduzione è svolto dai ribosomi questi organuli sono importanti per assemblare la catena polipeptidica e per garantire la corretta scansione in triplette. Ogni ribosoma è costituito da due subunità una maggiore e una minore. La subunità maggiore è composta da tre molecole diverse di RNA ribosomiale e 45 proteine differenti. La subunità invece contiene una sola molecola di rRNA e 33 proteine. L'RNA ribosomiale forma quindi insieme alle proteine i ribosomi e garantisce la corretta costruzione delle proteine. Sulla subunità maggiore del ribosoma si trovano tre siti di legame per i tRNA. Il sito A dove l'anticodone del tRNA si lega al codone dell'RNA messaggero portando l'aminoacido da aggiungere alla proteina in crescita. Il sito P dove il tRNA cede il proprio aminoacido alla proteina in crescita. E il sito E dove il tRNA che ha lasciato il proprio aminoacido si stacca e torna a legare un nuovo aminoacido per ricominciare il processo. La inizio avviene con la formazione del complesso di inizio. Le due subunità del ribosoma si aprono e tra esse si insinua l'estremità tre primo dell'mRNA la cui prima tripletta è sempre AUG che codifica per la metionina. Successivamente un tRNA che trasporta metionina si lega al codone iniziale e si forma il complesso di inizio. A questo punto il ribosoma scorre e il tRNA con la metionina viene a trovarsi nel sito P mentre nel sito A entra il secondo codone dell'mRNA. Si passa ora all'allungamento. Nel sito A entra adesso un tRNA il cui anticodone è complementare al secondo codone dell'mRNA. In questo momento avvengono tre eventi. Nel sito P si rompe il legame tra il tRNA e il suo aminoacido. Nel sito A si forma un legame peptidico fra l'aminoacido del sito P e quello ancora attaccato al proprio tRNA sul sito A. Ora sul tRNA del sito A si verranno a trovare due aminoacidi. A questo punto l'intero ribosoma si sposta di un codone in avanti lungo l'mRNA. Il primo tRNA invece privo di aminoacidi si viene quindi a trovare nel sito E e si stacca dal ribosoma mentre invece il secondo tRNA con i due aminoacidi legati va ad occupare il sito C. Il processo di allungamento continua ripetendo quindi ciclicamente le seguenti tappe. Un tRNA carico entra nel sito A che è libero e il suo anticodone si lega al codone dell'mRNA. L'aminoacido appena portato quindi forma un legame peptidico con la catena nel sito P. Quest'ultimo tRNA carica l'intera sequenza mentre il precedente tRNA si libera e il ribosoma a questo punto si sposta di nuovo. Il tRNA del sito P si sposta nel sito E da cui si stacca e così via. La catena di aminoacidi si allunga quindi progressivamente dalla parte dell'aminoacido carbossi terminale mentre invece l'aminoacido N terminale rimane sempre la prima metionina che ha iniziato la sintesi. Anche se come vedremo in seguito in un altro video la metionina non sempre verrà poi mantenuta. In molti casi infatti dopo la traduzione questa viene rimossa. La terminazione avviene quando nel sito A entra uno dei tre codoni di stop. Il ciclo di allungamento si arresta e la traduzione ha termine. Tuttavia non dobbiamo pensare che con un meccanismo così laborioso come quello che abbiamo appena descritto la sintesi proteica proceda lentamente. La velocità media è di circa 4-5 aminoacidi al secondo per cui la sintesi completa di una proteina di medie dimensioni cioè circa 500 aminoacidi si realizza in circa un minuto e mezzo. Da un punto di vista energetico invece la sintesi delle proteine è un processo anabolico che richiede un elevato consumo di ATP. Ne sono infatti richieste 4 per ciascun aminoacido aggiunto e 2 ATP sono necessari per caricare l'amminoacido sul tRNA. Una ATP serve per la formazione del legame peptidico e un'altra ATP è necessaria per lo spostamento del ribosoma. Di conseguenza una proteina media richiede ben 2000 ATP per poter essere sintetizzata. In questo video abbiamo concluso il codice genetico e il processo della traduzione. Ti consiglio di iscriverti per supportare il canale e non perderti i prossimi contenuti e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!